Io stento veramente a crederci, amici di Calciopazzo, sembra ormai veramente agli sgoccioli l'avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli, un rapporto che forse con De Laurentiis non è mai sbocciato definitivamente, chissà per quale motivo, io potrei anche fare delle ipotesi, ma chiaramente sono soltanto ipotesi, non ho notizie a riguardo, non ho certezze, però posso pensare che quando Ancelotti ha accettato la panchina del Napoli, molto probabilmente gli saranno state fatte delle promesse che poi forse sono state disattese, nel senso che Ancelotti è abituato a lavorare in grandi club con grandi campioni, e effettivamente che sta nel Napoli un qualcosa in più lo ha fatto, un piccolo salto di qualità ha provato a farlo se non altro a livello di quantità della rosa, però certo per i nomi che circolavano d'estate, uno su tutti quello di James Rodriguez, poi alla fine chi è arrivato non ha fatto sognare più di tanto né il tifoso né probabilmente Ancelotti, che però ovviamente non possiamo definire esente da colpe. Adesso andiamo a leggere su un articolo di Zona Calcio quelle che a loro dire possono essere le responsabilità da parte del tecnico, e poi dopo ci inoltriamo in un giudizio nostro, nostro, mio, vostro, insomma che poi alla fine conta lo stesso, sia il giudizio mio sia il vostro, alla fine l'ho sempre detto, chi segue questo canale non deve prendere per oro colato il mio pensiero, ma ne parliamo perché siamo sullo stesso livello io e voi. Allora se da un lato possiamo affermare che un ciclo è finito, dall'altro possiamo altrettanto dire che più di qualche responsabilità in questo senso le ha il tecnico. Fa strano parlare in questi termini di un allenatore come Carlo Ancelotti, uno abituato a vincere, che difficilmente si è trovato in queste situazioni, tralasciando Madrid dove nonostante la vittoria in Champions i dissapori con la società erano troppo forti. Eppure alcune sue scelte appaiono del tutto sbagliate, incomprensibili. Prima di tutto questo Napoli non è strutturato per giocare con un modulo come il 4-4-2, né tantomeno il 4-2-3-1. Giocare con Insigne come esterno di centrocampo, con un Caleon così basso, evidentemente non ha portato i frutti sperati. Fabian Ruiz ha bisogno di campo, spazio per inventare, per gestire il gioco. Tutto questo però è frutto di un mercato che non ha portato in azzurro i giusti interpreti per il gioco che Carlo Ancelotti voleva imporre alla squadra. E lì veniamo al discorso mio precedente. Tutto questo però è frutto, ok questo già l'ho detto, dunque può, perché ostinarsi a giocare con un modulo che non è assolutamente confacente alle caratteristiche dei giocatori in rosa? Sicuramente continuare con quel 4-3-3 di memoria sarriana avrebbe evitato tutto questo. Allora se da una parte ovviamente io considero, ma come parlavo per altri allenatori in passato, nel calcio moderno funzionano di più gli allenatori alla Allegri. Nel senso che o ti fai fare la squadra per il tuo modulo perché dici io gioco soltanto in quel modulo e quindi mi serve questo, 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 questo e questo. E non solo ma anche in panchina eventualmente chi entra deve essere adatto a quel modulo e quindi si fa una campagna acquisti ad immagine e somiglianza dell'allenatore e del suo modulo. Oppure, oppure devi essere intelligente tu, allenatore, a vedere qual è il materiale umano a disposizione, anche fare delle prove eventualmente. Proviamo a farti giocare là, proviamo a farti giocare qua, se però vedi che i risultati non vengono devi essere tu, intelligentemente, a cambiare. Perché questo è più di un anno ormai a questo punto che stai sulla panchina. Allora, se l'anno scorso, bene o male, hai fatto anche una buona stagione perché è il secondo posto, anche se nelle coppe non hai ottenuto i risultati. Alla fine, se andiamo a fare un bilancio della stagione precedente Sarri e della stagione Ancelotti, stiamo lì, soltanto che con Sarri probabilmente giocavi un calcio un po' più spettacolare. Anche se poi, personalmente, io non seguo tutte le partite del Napoli, ma quelle che mi è capitato di vedere anche con Ancelotti, secondo me il Napoli anche in questa stagione ha giocato un ottimo calcio. Poi chiaramente un po' sfortuna, un po' imprecisione e quant'altro si è arrivati a questo punto. Poi vediamo qual è l'altro errore, quindi il primo è la non adattabilità delle proprie idee di gioco alla squadra che c'è a disposizione. In secondo luogo, ciò che più viene criticato, almeno a quanto trapelato da Castelvolturno, è il modo in cui vengono condotti gli allenamenti. Se da un lato le accuse di nepotismo nei confronti del figlio Davide sono assolutamente infondate, dall'altro è pur vero che i metodi apportati da quest'ultimo, il forsennato turnover, non ha portato a nulla. E questo sì, effettivamente anche parlando con parecchi amici napoletani, ma anche youtuber, quello che si evidenzia rispetto proprio alla gestione Sarri è proprio questo qui. Quindi che mentre Sarri era abituato a giocare con quei 14-15 calciatori e quindi mandava a memoria un certo tipo di movimento e un certo tipo di cultura calcistica, facendo anche gruppo ovviamente, qui viene imputato che il troppo turnover non crea quell'amalgama che poi serve per far sì che una squadra si compatti e raggiunga i risultati. Poi, atleticamente il Napoli è a pezzi. La squadra non ha un gioco, non esprime più quel bel calcio a cui ci aveva abituati, non c'è più quella sincronia nei movimenti e nelle giocate. Insigne e Caleon non si trovano più a memoria. Ricordate insomma il taglio di Insigne da sinistra e Caleon che va a chiudere sulla destra. Insomma, un ciclo è finito. C'è ancora qualcosa da poter salvare? E questa è la domanda che a questo punto ci facciamo. Ora, sembra che il tecnico individuato per sostituire Ancelotti, dopo che sono stati, a dire insomma della stampa, ascoltati anche Allegri e Spalletti che hanno gentilmente declinato l'invito a quello che insomma leggiamo, sembra che invece Gattuso abbia accettato questa missione. Qual è la missione? La missione è quella, innanzitutto, di ricompattare l'ambiente perché è evidente che c'è malcontento. C'è malcontento innanzitutto nella presidenza, c'è malcontento tra i giocatori, soprattutto quelli più rappresentativi e c'è malcontento nel popolo napoletano, ovviamente. Quindi Gattuso viene, incarnerebbe quel furore agonistico, quella famosa parola che a Napoli è sempre molto di moda, la cazzimma, ossia il furore agonistico appunto che i napoletani, ma non solo i napoletani, qualsiasi tifoso vuole vedere nei propri giocatori, nella propria squadra, cioè rispecchiarsi in coloro che vanno in campo e gettano il cuore oltre l'ostacolo e sono pronti a morire per la madre, ovviamente adesso sto esagerando, però insomma si vuole vedere un attaccamento maggiore perché poi soprattutto squadre che non sono abituate a vincere come Napoli, come la Roma, come la Lazio, insomma tutte queste squadre di seconda fascia, che cosa chiedono ai propri giocatori alla fine? Chiedono soltanto appunto di vedere quell'attaccamento alla maglia e poi dopo ciò che arriva uno lo prende sempre con il massimo entusiasmo, ma nel momento in cui tu non soltanto non raggiungi nessun tipo di risultato, ma non vedi nemmeno quell'appartenenza che dovrebbe esserci e da quel punto ti cascano le palle, per cui nonostante Ancelotti è un allenatore pluridecorato, tutto quello che vogliamo, la carriera parla per lui, non dobbiamo certo scoprirlo noi, però io posso anche a questo punto essere d'accordo con un cambio di rotta. E Gattuso, che se vi ricordate insomma quest'estate, io nel marasma generale della Roma, era uno di quelli che a me personalmente non sarebbe dispiaciuto, perché io vedevo proprio un ambiente scollato e credo che lui invece sia proprio la persona giusta, ideale, uno che guarda in faccia quando ti parla, uno che sa pungolare i calciatori ed eventualmente fare gruppo, credo che sia proprio l'allenatore ideale in questo momento. Poi, ovviamente è chiaro, nel panorama internazionale, ma anche italiano, si può trovare meglio. Però ragazzi, se in questo momento Ancelotti, con tutto il suo curriculum, non riesce a trovare il bandolo della rama tassa, perché è di questo che stiamo parlando, evidentemente l'ambiente è scollato, l'ambiente non lo segue più, e per cui, nonostante Ancelotti appunto sia un grande allenatore e lo dovrete pagare a sugo di caramella, come si dice qui a Roma, però credo che sia una mossa inevitabile a questo punto, cioè proprio non se ne può fare a meno. Per cui ben venga, insomma, io non parlo da romanista in questo momento, parlo da sportivo, ben venga Gattuso se può aiutare il Napoli a risollevarsi. Ovviamente a me da romanista, se rimane Ancelotti e il Napoli va picco, non mi può fare che piacere, ma non ve la dovete prendere. Se fa proprio qua un discorso di arrivare a quarto posto, terzo posto, e quest'anno la concorrenza è tantissima, perché c'è pure il Cagliari, c'è l'Atalanta, c'è la Lazio, sono tante squadre, per cui se una di queste fa un passo indietro, facilita un po' il lavoro a tutti gli altri, quindi adesso arriveranno insulti e quant'altro, pensa alla squadra tua, fatti i cazzi tua, ma io sul mio canale faccio un po' come cazzo mi pare, lo sapete, lo avete sempre saputo, per cui io rispondo sempre in maniera schietta. Io parlo da quello che voglio. In questo momento l'argomento principale, probabilmente, di tutta la Serie A è il Napoli, e il probabile sonoro Dancelotti. Io ho letto in vari giornali, a prescindere da come finisce stasera, perché stasera magari il Napoli vince, passa il turno, quindi comunque un obiettivo stagionale, uno step è stato raggiunto. Però probabilmente la decisione è già stata presa, ed è irrevocabile. Per cui Dancelotti consegna al suo figlioccio, diciamo tra virgolette, Gattuso, consegna una squadra che passa, presumo io, voglio dire, non credo possa essere contrario, perché altrimenti sarebbe veramente da sommossa, da invasione di campo, consegna una squadra che passa il turno di Champions, e sarà più sollevato Vincenzo Montella, perché se Gattuso accetta il Napoli, altrimenti diventava un po' come la storia tra Ranieri e Di Francesco, con Ranieri che è il gufo di Di Francesco sempre dietro a scalzarlo quando viene esonerato, e sarebbe stata la seconda volta anche per Vincenzo Montella, prima venuto al Mina, e adesso alla Fiorentina. Mentre invece con Gattuso al Napoli, Vincenzino, dorme, dorme suoni tranquilli, insomma, fino a che, ovviamente, Comisso glielo permetterà. Va bene, io vi auguro una buona giornata, scrivetemi sotto ovviamente nei commenti qual è il vostro pensiero, se ne parla tranquillamente. Il mio è un pensiero, ripeto, da sportivo, non da romanista in questo momento, anche se, ovviamente, ho tutto l'interesse che il Napoli non vada bene in campionato per la mia Roma, e vi ricordo che ho anche il canale Instagram, eventualmente, se lo volete seguire, ve lo faccio vedere, guardate, perché io ne vado veramente orgoglioso, a livello proprio grafico di questo canale. Eccolo qua, si chiama Calciopazzo 2015, che è l'anno di fondazione, e abbiamo tutte queste grafichette carine, curate, fatte da me con Photoshop, diciamo, una sorta di cartone animato, e dove passo chiaramente le notizie, e poi ci sono le stories, le famose stories, va bene? Vi aspetto, un saluto! Grazie a tutti!